A devient E io caro signor Loijato sono come voi, a tutto rinuncerei, tranne che è una tazzina di caffè presa tranquillamente fuori dal balcone. Ma un caffè come lo faccio io, si intende? Con questa macchinetta se ne possono fare due tazze, però se ne possono ricavare pure tre, nel caso ci sta una terza persona. Io il caffè me lo tosto da me, pure voi? Fate bene, perché la cosa più difficile è indovinare il punto giusto di cottura. Il colore a manta di monaco, l'acqua poi deve bollire per lo meno quattro minuti. E' un piccolo segreto, piccolo ma importante. Poi prima di colarla nella parte interna della capsula boccherellata, bisogna cospargere il fondo con, si, mezzo cucchiaino di polvere fresca appena macinata, in modo che nel momento della colata l'acqua bollente già si aromatizza per conto suo. Oh, ancora un altro consiglio. Mentre sta passando, questo coppetillo di carta, perché il fumo densa del primo caffè che scorre, che poi è il più carico, non si disperda. Chi stu coppetillo la pare niente, eppure c'ha la sua funzione, perché io lo metto sul becco, ecco. E? E sul beccuccio, chiaro?